Ormai non c'è Accademia dello Sport per la solidarietà senza Moreno Morello. Sono apparizioni fugaci perché io poi vengo eliminato al primo turno, stranamente, però ci sono sempre. Sai che ti dona anche il blu rispetto alla giacca bianca al completo? Devo dire di sì, però un elemento bianco che è il pantalone lo tengo sempre, come vedi. Senti, sono mancati due anni di Accademia, di tennis, di divertimento e soprattutto di solidarietà, anche se l'Accademia non è stata ferma in questi due anni, sai che hanno realizzato tantissime cose allo stesso tempo. Noi da lontano li tenevamo d'occhio, sapevamo che avrebbero dato una risposta grande anche a questo momento di difficoltà e nella difficoltà l'Accademia era, devo dire, sempre estremamente attiva ed efficace. Quindi io vorrei veramente spendere due parole di elogio per queste persone che in ogni situazione si danno da fare. Sai che quest'anno mi lasci solo sul palco per la serata finale? Mi dicono che è un impegno, ho controllato in agenda, ho visto che c'era un impegno. Ma mi hanno detto che stai rincorrendo tua moglie, vai a nozze il giorno prima. Esatto, il giorno prima purtroppo sono lì e non posso... Come purtroppo? Se voi mi dite, è motivo giustificato, allora vengo qua, diteglielo voi che mancherò purtroppo. No dai. Rincorrela. No, la rincorro, la rincorro. Sono preso da quest'altro impegno meraviglioso e quindi per quest'anno mancherò, ma il mio cuore, un pezzettino del mio cuore sarà anche da voi. No, la rincorro, la rincorro, la rincorro.